pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa seconda domenica del tempo di quaresima meditiamo il testo della trasfigurazione del signore questo meraviglioso evento di luce cioè Gesù che per un momento rivela ai suoi discepoli più intimi la sua divinità per incoraggiarli dopo aver loro preannunziato la sua prossima passione morte e risurrezione non a caso la liturgia propone questo testo la seconda domenica di quaresima viene a ricordarci che il nostro cammino penitenziale e la nostra vita cristiana non è un continuo venerdì santo la sagra della rinuncia fine a se stessa o del masochismo spirituale di chi non vuol mai gioire nella vita no è un cammino di gloria in gloria è un cammino di purificazione dall'egoismo di liberazione dal male per amare sempre di più e siamo in cammino verso il cielo verso la santità l'unione profonda con dio vorrei condividere con voi in particolare tre punti primo come dio semina le sue grazie secondo la bellezza dello stare con lui terzo l'importanza dell'essere luce per gli altri vediamo un po primo punto come dio semina le sue grazie ecco gesù preannunzia la sua prossima passione morte risurrezione e come ci dicono diversi padri della chiesa per aiutare i discepoli ad affrontare superare lo scandalo della croce e anche aiutarli a capire che la croce nasconde la gloria non è rovina ma è dono di sé le vittorie sul male sulla morte prende sui discepoli più intimi li porta sul monte e lì fu trasfigurato vedete il signore prepara i suoi discepoli ad affrontare qualcosa di doloroso dando loro una grazia preventiva diciamo così dio semina nel nostro cuore nella nostra vita tanta bellezza consolazioni luci interiori intuizioni parole che ci scaldano ci toccano il cuore momenti di consolazione intensi tante volte ci prepara anche in questo modo ad affrontare momenti situazioni difficili facendone tesore facendone memoria questi segni queste consolazioni diventano come gocce di rugiada che possono aiutarci ad attraversare momenti di prova sofferenze situazioni difficili affinché possiamo sentire la sua vicinanza anche lì saperci non soli anche lì sentire che anche lì il signore non ci molla e anche a quelle situazioni da senso c'è dunque da imparare l'arte del riconoscere i segni del passaggio di dio e far tesoro delle grazie che semina nella nostra vita saperle raccogliere come si raccoglierebbero delle perle in modo da farne una meravigliosa collana che può diventare davvero una corona di discernimento che ci aiuta ad affrontare al meglio i momenti più difficili secondo punto è bello per noi stare qui sono le prime parole che pietro esclama contemplando la gloria di gesù e mosè ed elia che conversavano con lui che in un certo modo rappresentano la legge i profeti dunque l'antico testamento in dialogo con gesù che trova compimento in gesù queste parole di pietro dette in preda allo stupore rivelano qualcosa di profondo qualcosa che dovrebbe valere per ciascuno di noi cioè cioè è bello per noi signore stare con te per pietro stare con gesù è bello gesù è bello e la sua non è tanto e solo una bellezza estetica o fisica ma è la bellezza divina di colui che è dio di colui che è pieno di dio di colui che ama da dio di colui che è la parola di dio colmo della sua sapienza insomma per pietro stare con gesù è veramente bello e la sua bellezza è così grande che gli evangelisti faticano a descrivere la sua manifestazione gloriosa nella sua trasfigurazione fa bene chiederci se per noi è davvero così posso dire che è davvero bello per me stare con gesù e seguire gesù se così non fosse dovrei chiedermi il perché forse perché coltiviamo poco la relazione con lui forse perché addirittura prima ancora non gli abbiamo aperto davvero il cuore non l'abbiamo incontrato forse perché ci lasciamo distogliere e disperdere da tante cose inutili è vero a volte la preghiera può costare fatica a volte per andare a messa bisogna vincere la pigrizia ma posso dire che per me gesù è qualcosa di davvero bello com'è possibile che cresca questo sapore di bellezza di cristo e del vangelo la scena della trasfigurazione ce lo insegna stando con gesù lasciandoci anzitutto portare in disparte da lui abbiamo bisogno di coltivare l'intimità con lui ritagliandoci ogni giorno del tempo per pregare e per meditare la sua parola abbiamo visto nella trasfigurazione mosè ed elia la legge profeti l'antico che dialoga col nuovo che si compie nel nuovo e non solo la voce del padre udita dai discepoli dunque dunque abbiamo bisogno di stare con gesù di meditare la sua parola di contemplarlo e ancora potremmo dire incontrarlo con la comunità i tre discepoli fanno insieme esperienza di gloria e questa esperienza con la comunità la viviamo soprattutto nella liturgia domenicale ecco se frequentiamo cristo cresce noi questo sentore di bellezza un uomo anziano testimoniava dicendo che da quando ha preso l'abitudine di meditare ogni giorno il vangelo gli si sono aperti mente e cuore e si sente davvero cambiato ecco la bellezza più stiamo col signore più ci attrae a sé e più come diceva padre canta la messa non viviamo più facendo le cose per costrizione ma per attrazione perché attratti dalla bellezza dell'amore del bene della santità in fondo miei cari è l'esperienza di due innamorati che più stanno insieme più si conoscono e più si amano e più si amano più desiderano conoscersi e dalla frequentazione cresce la relazione d'amore terzo passaggio l'importanza dell'essere luce anche per gli altri pietro dopo aver detto quanto sia bello star con gesù mentre mose ed elia sono apparsi vicini a lui ne spara una delle sue e dice facciamo tre tende una per te una per mose una per elia non sapendo quel che diceva il linguaggio che utilizza è quello che allude alla festa delle capanne una gioiosa festa che celebra la liberazione dall'egitto ma qual è il problema di pietro che pietro vorrebbe fermare quella scena fermarsi al momento di gloria non scendere più a valle non andare più fino a gerusalemme non dover affrontare la croce ma fermarsi lì ma questo non è possibile quella grazia gli è data perché abbiano la forza di attraversare lo scandalo della croce e perché a suo tempo possano testimoniare agli altri che davvero gesù aveva scelto liberamente di donarsi fino in fondo e di amarci fin lì manifestandoci così il suo amore totale e fedele per il padre per ciascuno di noi qui abbiamo qualcosa di profondo per la nostra vita la parola di dio la grazia ricevuta specie nei sacramenti le consolazioni segni di dio mirano a trasformarci nel modo di pensare di agire san paolo dice lasciatevi rinnovare nello spirito della vostra mente e ancora ci dice in romani che lo spirito santo ci conforma a cristo di gloria in gloria ora questa conformazione a cristo tutta questa bellezza ci è data perché perché possiamo metterla poi a servizio degli altri i discepoli non possono restare lì sul monte nella gloria gesù per primo deve scendere per dare la sua vita per ognuno di noi i discepoli e noi tutti siamo chiamati a seguirlo sulla via della croce che è la via del dono generoso di sé non si può pensare ad una vita intesa come slalom da ciò che comporta sacrificio ad una vita pensata come se fossimo delle api che saltano di fiore in fiore magari di piacere egoistico in piacere non si può pensare ad una vita cristiana adulta intesa come mera ricerca di grazie consolazioni ed esperienze forti magari girando qui e lì alla ricerca dei presunti mistici o santoni di turno la grazia ci è data perché la possiamo far fruttificare mettendoci a servizio degli altri san pietro dirà chi parla parli con le parole di dio chi svolge un ministero lo compia con la forza ricevuta da dio ecco tutta questa grazia ci è data perché possiamo metterla a servizio degli altri e come possiamo essere luce per gli altri ecco condivido in conclusione con voi un passo molto bello che ricorre spesso in questo tempo di quaresima tratto da isaia 58 9 10 che dice così se toglierai di mezzo a te l'oppressione il puntare il dito e il parlare empio se offrirai il pane all'affamato se sazierai chi è digiuno allora brillerà fra le tenebre la tua luce chiediamo dunque al signore che ci aiuti a saper accogliere custodire le sue grazie che come gocce di rugiada ravvivano il cuore a gustare la bellezza dello stare con lui e del vivere uniti a lui dicendo no a tutto ciò che ci può allontanare dalla comunione con lui e ad essere nel nostro piccolo luce per gli altri mettendo a frutto tanta bellezza per il bene e la felicità delle persone che dio ci fa incontrare che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti grazie